Roma dall'alto. Alla ricerca di hotspots all'interno di Urbanita Island. Con dati migliorati da Lensat. Le città sono generalmente più calde del campagna a causa del modo in cui costruiamo l'energia che usiamo. E ci sono meno alberi e piante per fornire un raffreddamento per evaporazione. Si chiama Urbanita Island. Con un clima che cambia. Il caldo diventerà sempre più un fattore spiacevole per tutti. In città e si prevede un aumento del numero di decessi dovuti al calore. L'Urbanita Island sembra un problema. Che. È troppo grande per essere risolto. Ma è. Così. Per prima cosa dobbiamo guardare le temperature all'interno delle città in modo molto più. Dettagliato. Se possiamo cambiare questi radiatori. In teoria possiamo anche rendere una città più. Fresca della campagna. Il software è stato scritto per migliorare la risoluzione dei dati Lensat. Fornito da. USGS Americana. Per prima cosa prendiamo le temperature estive medie per Roma come esempio. E' chiaro che il centro storico si sta riscaldando meno delle aree più recenti. sviluppate nella parte orientale. La Biblioteca Nazionale. La stazione ferroviaria Termini e la caserma Castro Pretorio sono visibili. Come hotspots. Consente ora di localizzare le fonti di calore nella stazione ferroviaria Termini e degli hotspots. Nel nord-est. Possiamo vedere che il problema più grande è dove sono i treni. E se adottiamo l'idea di i tetti freddi. Dipingere i tetti degli edifici. Sopra le piattaforme e in cima ai treni tutto in bianco. Si rifletterà più calore dal sole. Ciò si tradurrà in una temperatura media migliore. Caserma e biblioteca sono sul terreno dei castra della Guardia Pretoriana costruita da Tiberio. Il castra è stato costruito su un'area elevata che era originale al di fuori delle mura della città. Una grande parte del massiccio muro antico è ancora lì. I picchi di temperatura. Sull'asfalto delle caserme. A Los Angeles l'asfalto era dipinto. Riducendo. La temperatura di parecchi. Cool roads. Dipingere tetti e strade aiuta ma l'altezza potrebbe anche essere un fattore. Nel prossimo video la sponda occidentale del Tiberio è solo un po' più fredda. Che potrebbe indicare un maggiore assorbimento di calore da terra. Se il terreno è un po' più basso di quello che lo circonda. Sarà più vicino alla falda acque sotterranea e quindi più umido. Poi ci concentriamo su un altro hotspot. La scuola e la caserma dei carabinieri. I colori e i valori limite possono essere ottimizzati per ogni singolo hotspot. Ancora una volta l'asfalto scuro è un problema. Gli alberi e un piccolo campo da calcio non fanno. Molta differenza. Che cosa succede se uno per uno ci concentriamo su ciascuno degli hotspot? Scopri quali sono tutti i fattori rilevanti e successivamente li cambi. La prossima estate l'effetto sarà visibile nei dati satellitari di Landsat. Eliminare gli hotspot è probabilmente il modo più efficace per ridurre l'effetto di urbanità island in qualsiasi città. Con conseguente riduzione delle temperature estive e fornendo migliori condizioni di vita.